Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Biella Piedicavallo, corsa podistica giunta alla 41esima edizione, 18 chilometri dal centro cittadino fino al paese dell'Alta Valle Cervo, per un dislivello di circa 600 metri. Il percorso passerà da Andorno, Saliano, La Balma, Asmara, Campiglia e Rosazza. A causa della frana sulla strada provinciale Cento, poco dopo l'abitato della Balma, verrà percorso un tratto sterrato di circa 500 metri a fianco del greto del torrente Cervo. La lunghezza del percorso varia quindi di poche decine di metri rispetto a quello degli anni passati. Le preiscrizioni scadranno alle 24 di giovedì 17 marzo. Non sono previste, per ora, iscrizioni last minute al raduno di partenza. La tassa, stabilita dall'organizzazione per l'iscrizione, è la seguente, 20 euro per la Biella Piedicavallo. È previsto un pacco gara a ristoro per tutti gli iscritti. Si può prenotare anche il bus navetta per il rientro, al raduno di partenza di Biella in via La Marmora. La navetta partirà da Piedicavallo alle ore 13, al costo di 10 euro, al termine della gara. La tassa di iscrizione verrà pagata al ritiro del pettorale al raduno di partenza. Le classiche norme sanitarie. Sempre al ritiro verrà rilevata la temperatura e si dovrà consegnare il modulo covid di autocertificazione. Alla partenza i concorrenti dovranno presentarsi con la mascherina, che potranno poi togliere dopo 500 metri e rimettere dopo il traguardo. Sono previsti posti di ristoro con bottiglie di acqua sigillata. Alla riconsegna dell'epettorale verrà consegnato il pacco gara, comprendente il premio di partecipazione e ristoro. Le premiazioni modalità covid verranno fatte sul podio per i migliori classificati, mentre quelle di categoria avverranno in modalità self-service. È assicurato servizio medico di ambulanza e sul tracciato dai gruppi AIB, Biella Orso e Valle Cervo. 250 euro il premio per i vincitori maschili e femminili. Premi a scalare per chi segue.